Neanche la pioggia ferma le assemblee itineranti degli agricoltori ionici iscritti al tavolo verde. Dopo Palagiano, riunione a Massafra per ribadire il no al pagamento del famoso tributo 630 chiesto dal consorzio di bonifica di Stornara e Tara. E' il tributo fisso, quello relativo ai lavori di bonifica dell'agro occidentale della provincia di Taranto. E' vero, dicono gli agricoltori, il tributo è stato rivisto e ridotto dopo la riclassificazione dei terreni, ma rimane una tassa annuale iniqua, perché di bonifiche da queste parti non se ne sono viste da anni. Perché dovremmo pagare un servizio che non ci è reso? In altre province gli agricoltori ricorrendo al Tar hanno avuto ragione, concludono gli agricoltori. Pietro Ricci, dirigente del tavolo verde di Puglia e Basilicata. Non hanno fatto mai manutenzione e mai fatto pulizia dei canali, quindi questo tributo non va pagato, va mandato indietro. Come si può chiedere un tributo senza aver ottenuto un qualcosa? Il sistema idrologico è completamente rovinato.